ciao io sono johnny95 e oggi siamo su bones ball allora ce l'avevamo lasciati nello scorso episodio sulla terra ground e difficoltà difficile livello 5 da qua ce l'avevamo lasciati quindi riprendiamo da qua allora andiamo avanti avanti doppio doppio bust ok un'altra volta scendiamo giù ok troppo cadere ma va bene così abbiamo fatto prossimo livello ok qua dobbiamo passare qua sotto sempre sotto che è perfetto poi togliamo tutti i trasparenti prendiamo il cannone abbiamo finito facile prossimo livello allora l'audio si dovrebbe sentire l'audio di gioco che c'è solo l'effetto sonoro allora dobbiamo salire qua sopra sempre salire qua dopo salto perché sennò non ci arriviamo salto in lungo saliamo sulle molle saliamo sul cannone e ci fermiamo sulla stella ok il prossimo livello allora spero che questa serie vi stia piacendo andiamo qua sopra anche se sto sempre trovando che guardate poco i video quindi non lo so però ci sono nuovi iscritti quindi non lo so che dirvi io vi continuo a caricare i video ma voi dovete continuare a supportare allora qua dobbiamo andare sulle trasparenti senza toccare le spine cannone cannone ok andiamo su questo cannone ci fermiamo qua sotto e no sono morto devo fermarmi un po prima se mi fermo prima ce la faccio allora eh troppo tardi lo riproviamo ok e lo abbiamo fatto no non era difficile questo era semplicemente io che non riuscivo a farlo salto in lungo e ogni volta dico salto in doppio salto invece salto in lungo molla cannone e così finisco tutti col cannone vabbè ok tutti uguali così allora trasparenti trasparente ok vendiamo questo trasparente andiamo giù molla prendiamo il l'abilità e salto in lungo ok perfetto prossimo ah qua dobbiamo prendere dobbiamo evitare il cannone e fare salto in lungo sotto ok perfetto andiamo sopra le molle andiamo sopra e prendiamo la stella fatto fatto per ora è ancora semplice questa cosa allora dobbiamo prendere tutte i trasparenti salto in lungo ok preso prossimo molla 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 ok andiamo sopra e no e no è ammazzato vai sopra ok c'è la trasparente che faceva da blocco in più quindi mi impediva di di scendere di salire sulla molla prendete questo gioco come se fosse un fabbricato simile a minecraft perché ha fatto a cubi anche questo ok adesso non sto dicendo che è uguale perché è diverso è un genere diverso però come grafica secondo me siamo lì andiamo sotto salto in lungo ok perfetto molla 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 stella ok ok nest ah qui dobbiamo semplicemente andare sopra questo trasporto questo trasporto qua e poi andare sulla stella e basta sport che vi ricordo mi devo muovere io perché altrimenti cado next lascio delle stelle da prendere io prendo i trasparenti passo di la trasparenti ok ah questo gioco è fatto veramente bene quindi ok perfetto next anche lì potevo evitare di usare l'abilità ma vabbè già che ce l'avevo allora andiamo sotto prendiamo il power up andiamo sotto ok prendi il cannone fermati qua tutte le molle tutte le molle qua sopra e prendiamo la stella next ok qua dobbiamo andare sotto e districarsi da questi blocchi trasparenti ok ok fatto next che livello siamo aspetta fammi vedere um ah siamo a livello 20 hard 20 hard ok un po' di molle qui c'è la molle c'è anche da usare l'abilità ok un po' di parkour fatto 21 dobbiamo stare attenti perché dopo il 21 dobbiamo tornare fuori e scegliere il mondo con la difficoltà facile perché prima facciamo la difficoltà facile allora e niente ho preso la prima stella ma la seconda no ah niente la seconda dobbiamo cercare di centrarla dopo aver preso la prima magari ok questo no no sbagliato ho sempre sbagliato non riesco a usare il il power up al momento giusto ho usato ce l'ho fatta preciso proprio next aspetta facciamo home adesso siamo arrivati abbiamo fatto i primi due monti perfetti ora dobbiamo fare il cielo sky sky diciamo easy ok stavolta eh ambiente bianco siamo in cielo ok next prossimo acqua tutto molle ok va bene vai 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 sopra fatto prossimo uh qua c'è un po' di roba allora io userei prima questo cannone qua vedete cominciano a diventare più complicati i livelli usiamo le molle molle andiamo sopra in alto fermati qua ok andiamo giù e poi usiamo il l'abilità ok perfetto tutto un giro per arrivare lì sotto prossimo allora qua facciamo basta andare avanti così dritto per dritto poi andiamo sotto prendiamo la molla la prossima è la stella preso next ah qua dobbiamo usare il cannone per andare là sotto dove c'è la stella perché l'unico modo per arrivare è usare il cannone però vediamo che ci sono dei blocchi trasparenti dall'altra parte quindi dobbiamo andare dall'altra parte con le molle passare di là togliere i trasparenti ok e poi tornare indietro se non sto sbagliando qualcosa torno indietro prendo la molla il cannone e via ok prossimo so che io ho tanta voglia di portarvi questi livelli questi video su questi ehm mondi che ci sono solo che il tempo passa veloce e non riesco a portarvi tanti tanti livelli alla volta e se volete episodi più lunghi fatemelo sapere intanto qua vedi che andiamo sotto facciamo l'ultimo livello poi basta allora andiamo sopra andiamo sopra che dobbiamo stare dentro i 10 minuti sopra ok doppio boost trasparente e arrivato prossimo ok questo lo facciamo la prossima volta eeeh retrium siamo arrivati al livello 8 facile poi faremo tutti gli altri livelli poi faremo difficile poi passeremo allo spazio a marte e poi più avanti ok sperando che questo video vi sia piaciuto vi invito a lasciare un bel like un commento per darmi la vostra votazione inserite al canale se è nuovi condividetelo più tardi da crescere e noi ci vediamo al prossimo video a presto